Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Autocisterna carica di benzina esce di strada in A14 a Fanno, chiusa la carreggiata a sud, al lavoro anche due squadre speciali Presa la banda dei distributori, la polizia mette le manette a 5 romeni Strada asfaltata da poco è già rovinata e il comune sospende i pagamenti alla ditta paltatrice dei lavori A Centinarola, baby vandali in azione del quartiere e guai a rimproverarli Il carnevale entra nel vivo, oggi la festa con gli anziani, domani il giovedì grasso per i bambini, domenica la ola più grande del mondo in Viale Gramsci Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a tutti cari telespettatori di Fanno TV a questa nuova edizione del telegiornale Si è temuto il peggio la scorsa notte quando un camionista, a un certo punto, forse per un colpo di sonno, un malore, ancora è tutto da vedere, da stabilire È uscito di strada con la sua autocisterna carica di benzina, è uscita fuori strada subito dopo il casello di Fanno in direzione Ancona Questa mattina siamo andati sul posto, Lino Balestra con il nostro operatore per vedere la situazione È stato riaperto alle 17.20 di oggi il tratto dell'A14 della corsia sud tra Fanno e Marotta dopo che era rimasto chiuso per oltre 5 ore Alle 3.30 di questa mattina una cisterna proveniente da Gorizia che trasportava 33.000 litri di carburante diretta al sud Italia Preso vivilmente per un colpo di sonno dell'autista, un 41enne foggiano, è finita fuori strada poco dopo il casello di Fanno La cisterna si è incanalata nel corridoio di scolo, al lato della careggiata e fortunatamente non si è ribaltata su di un fianco Ma nell'urto, col cordolo, la motrice si è fortemente danneggiata Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie della stradale di Fanno ed un'ambulanza del 118 Per prestare soccorso all'autista rimasto illeso fortunatamente nell'incidente Alle 8 del mattino sono arrivate le squadre speciali NBCR del Corpo dei Vigili del Fuoco Provenienti da mestre e di competenza in questi casi Oltre ai colleghi di Fanno presenti con due mezzi ed una squadra di Ancona ed una di Pesaro Con cisterne di schiumogeno ed acqua per circoscrivere l'area e monitorare la cisterna Intorno alle 12.30, chiusa completamente la corsia sud Sono iniziate le delicate operazioni di sversamento del liquido Altamente infiammabile in una cisterna gemella giunta sul posto Operazioni concluse intorno alle 17.20, momento in cui, dopo aver rimosso il pesante mezzo Da parte dell'AC di Fanno, è stato possibile riprendere il normale deflusso del traffico In entrambe le carreggiate, visto che non vi è stato alcun sversamento di liquido sul manto stradale Sul posto anche i tecnici dell'ARPAM e di Autostrade per l'Italia E la polizia ha arrestato la banda che metteva a segno furti nelle aree di servizio Cinque persone in tutto Ho precisato la bravura del personale nostro che è riuscito in questo giro rocambolesco Dopo il furto nel distributore di benzina A catturarli, come sapete, in modo quasi da manuale Sono come orde di rapaci che si avventano sulla preda Sono professionisti, non improvvisano e possono fronteggiare qualsiasi situazione Li definisce così senza mezzi termini il questore Antonio Lauriola Nel descrivere le bande di pendolari del crimine che si spostano su tutto il territorio nazionale A caccia di obiettivi da colpire Ma questa volta gli è andata male A Pesaro, al casello dell'A14, poco prima dell'alba di ieri Un'azione fulminea ma ben orchestrata della mobile di Pesaro Assieme ai colleghi di Rieti ed una volante del commissariato di Fanno Tutti coordinati personalmente dal dirigente Stefano Seretti Ha messo la parola fine alla carriera di 5 rumeni Di età compresa tra i 26 e i 39 anni Alcuni di loro pluri pregiudicati Esperti e ben attrezzati Pendolari del crimine specializzati Nello scassinare i self-service dei distributori di carburanti Partiti nel cuore della notte dal Lazio La loro tecnica, rudimentale ma efficace Prevede, una volta forzata la colonnina Con uno strumento cosparso di biadesivo Di pescare tutte le banconote contenute nella cassetta di deposito I 5, tutti a bordo di una potente BMW X5 Erano usciti dal casello di Fanno Già con i poliziotti reatini alle calcagna Che non hanno fatto altro che chiamare i rinforzi E la cavalleria è arrivata Uomini della mobile di Pesaro Ed una pattuglia del commissariato di Fanno Con un'auto civetta Dalle 3 del mattino Li ha seguiti in tutti i movimenti Prima e dopo aver scassinato il distributore IP Lungo la statale 16 Beh, il nostro lavoro, noi lo sappiamo Dobbiamo fare di tutto per cercare di Tutelare in primis i cittadini e gli utenti Questo è il nostro primo obiettivo In secondis è quello di ottenere il risultato Che appunto è questo il nostro lavoro E in terzo ordine è quello di tutelare anche la nostra incommunità Però è l'ultimo di tutti gli aspetti Ora il sudalizio di Malviventi Si trova in carcere a Villa Fastigi A disposizione dell'autorità giudiziare Che a breve dovrebbe convalidarne l'arresto Cambiamo argomento L'asfalto era stato appena completato Da qualche mese Però già presenta i primi segni di invecchiamento E così il comune di Fanno Ha deciso di sospendere i pagamenti Alla ditta appaltatrice di questi lavori Siamo andati a vedere in che stato è appunto la strada Non ti pago È una commedia in tre atti del grande Edoardo De Filippo Ma è anche quello che ha detto il comune di Fanno Alla ditta vincitrice dell'appalto Per l'asfaltatura in via Prima Strada a Bellocchi Dopo che numerose segnalazioni da parte dei cittadini E residenti della zona erano arrivate sulle condizioni Del manto stradale appena fatto lo scorso autunno E che stava letteralmente perdendo i pezzi in alcuni punti Creando buche di diverse decine di centimetri di superficie Ma è un disastro Forse ho l'asfalto fatto male Non so Comunque si sta rompendo tutto E il comune ha sospeso i pagamenti Quindi perlomeno Speriamo che le rifaccia Insomma perlomeno rimettono a posto Quello che effettivamente si è rotto Però se va avanti così In due mesi già le buche 9-10 buche Quindi non lo so Ora dopo un esame dell'ufficio tecnico del comune L'assessorato ai lavori pubblici Ha congelato alcune somme A titolo precauzionale Almeno fino a quando non verrà individuata La soluzione definitiva del problema In questo momento qui nella prima strada di Bellocchi I tecnici del comune stanno effettuando i carotaggi In alcune zone individuate Per capire e comprendere i problemi Di questo sfaldamento in alcuni punti Del manto stradale Come appunto da contratto effettuato con la ditta E poi vedere quali sono le contromisure da prendere Intanto alcuni punti sono già stati rattoppati Come mostrano i segni evidenti sull'asfalto E da capire ora Una volta effettuate le analisi Da un tecnico incaricato dal comune Quale tipo di intervento possa essere messo in atto Al momento la ditta però si è resa disponibile Ad effettuarlo senza ulteriori aggravi Ma questo non avverrà prima della primavera E da Bellocchi ci spostiamo in un altro quartiere di Fano Andiamo a Centinarola dove alcuni segnalatori ci hanno fatto notare Come alcuni baby teppisti I teppisti probabilmente ragazzini annoiati Si divertono distruggendo tutto quello che trovano sotto mano Una volta c'era il muretto Ci hanno fatto anche un film I ragazzi del muretto Punto di aggregazione degli adolescenti del quartiere Ore e ore passate lì A Cavalcioni a parlare, discutere, confrontarsi E dove naturalmente ci si ritrovava Niente birre, niente schiamazzi, niente danneggiamenti Solo vita di comunità Ora il muretto è passato di moda Meglio le piattaforme virtuali Poche chiacchere, molti whatsapp e diverse birre Molte volte i cittadini residenti di alcuni quartieri di Fano Ci hanno fatto ahimè segnalazioni simili E che abbiamo sistematicamente documentato L'anfiteatro dietro la scuola Montessori a Bellocchi L'area davanti alla chiesa del quartiere Vallato Il parco di Rosciano I giochi dei giardini vicino alle scuole Battisti In pieno centro a Fano Ora è la volta di Centinarola Stesso contesto, stessa situazione Svogliati teppistelli di età tra i 10 e i 14 anni Sgamati dai residenti Che di meglio non trovano che prendersela con i giochi Dedicati ai più piccoli E trasformarli in una zona di bivacco e vandalismo Così come le tracce del loro passaggio sono inconfondibili Vetri rotti, cartacce abbandonate Bottiglie di birra scolate lasciate lì O come nel caso specifico divisori Che dalla strada volano nel campo di calcio recintato E per non parlare poi Delle segnalazioni di chi ha assistito A scene di inciviltà e maleducazione Farcita anche da sproloqui verbali Qui irripetibili Dopo un anno di convenzioni e buoni risultati Il comune di Fano e quello di Cartoceto Hanno deciso di proseguire l'accordo Con le rispettive polizie locali Si sono incontrati l'altra mattina nella residenza municipale Il sindaco di Fano, Massimo Seri E il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi Ed i rispettivi comandanti dei corpi di polizia municipale L'incontro, voluto dalle due amministrazioni Visti gli ottimi risultati raggiunti È in funzione del rinnovo della convenzione Che presto verrà ratificato e rinnovato Fino al 31 dicembre 2019 Siamo appunto incontrati con il sindaco di Fano E con il comandante della polizia municipale di Fano Così come con il comandante della polizia municipale di Cartoceto Proprio per fare un bilancio di questo primo anno sperimentale Di collaborazione integrata tra i due servizi Una collaborazione che devo dire ha portato risultati importanti Sia in termini di controllo integrato del territorio Considerando che stiamo parlando di due territori confinanti E che sicuramente dialogano per tanti aspetti durante l'arco dell'anno Una collaborazione che ha portato anche all'utilizzo Anche qui integrato delle moderne tecnologie Apparecchiature finalizzate al controllo Al monitoraggio del territorio Ovviamente anche al rilevamento di infrazioni al codice della strada E quindi ci sono probabilmente tutte le condizioni Per poter proseguire questo rapporto di collaborazione Tutto ciò dovrà tradursi in una convenzione E poi da portare prossimamente in consiglio comunale Nei rispettivi consigli comunali Che appunto dovranno ratificare questo prolungamento della convenzione E adesso apriamo la pagina degli eventi Perché siamo entrati nel vivo, nel crew del Carnevale di Fano E oggi pomeriggio c'è stata un'iniziativa Un'iniziativa organizzata dall'ente carnevalesca Che ha visto come protagonisti i centri sociali I centri per gli anziani Vediamo Eccoci qui al veglione del castagnolo d'oro E delle ragazze e dei ragazzi di una volta Per Fano città del Carnevale Un Carnevale che ha al centro del suo progetto la persona Quindi abbiamo cercato di coinvolgere dai bambini agli anziani In questo caso una città che accoglie Una città che in qualche modo comprende Ma che soprattutto valorizza la diversità come talento Questo è il nostro obiettivo Divertirci senza pensare che poi i problemi sono tanti Bene, abbiamo già tante adesioni Tanti giovani e giovani di una volta E stiamo per cominciare un puro divertimento Speriamo che sia veramente una grande festa E buon Carnevale a tutti Buon Carnevale Bene, e domani invece l'appuntamento Domani è giovedì grasso L'appuntamento è soprattutto per i bambini Bambini che potranno ritrovarsi con i genitori alle 15.30 In piazza 20 Settembre Dove si aprirà il Teatrino di Filippo Con Filippo Tranquilli In collaborazione con l'Associazione Culturale Officina Opera Al termine dello spettacolo, gratuito Alle 17 andrà in scena Andar per Fiabe Al Teatro della Fortuna Un concerto per bolle di sapone Di e con Michele Cafaggi Al termine dello spettacolo intorno alle 18 Sempre in piazza 20 Settembre Musica con una canzone per Carnevale Un concerto per presentare il CD Del Carnevale realizzato da alcuni musicisti fanesi Poi alla fine del concerto Intorno alle 19 si darà il via Ad uno dei momenti più attesi E particolari del giovedì grasso Ovvero il Silent Party Musica sì, ma in cuffia E domenica c'è la terza e ultima sfilata Di Carnevale Con i grandi carri che torneranno ad animare Il corso di Viale Gramsci Intorno alle 16 Però ci si fermerà per qualche istante Per tentare di battere un record mondiale Ovvero il Carnevale di Fano Proverà ad entrare nel Guinness dei Primati Per la ola più grande del mondo Che partirà da Via Cavour E muovendosi come un'onda Per tutto Viale Gramsci Terminerà al Pincio L'attuale record ufficiale da battere Per una singola ola è di 15.000 persone E dal momento che domenica le previsioni Premettono una lunga e calda giornata primaverile E quindi probabilmente pieno di gente Il traguardo potrebbe essere comunque alla portata La ola immagino lo sapete tutti È quando si alza le mani al cielo E quindi poi performare appunto questa onda umana Ok, vedete già alle mie spalle La foto del sindaco di Fano Tra poco ci sarà Massimo Seri qui con noi Per rispondere alle vostre domande L'appuntamento è come sempre in diretta Il telefono è lo 0721 86 14 33 Per intervenire in diretta Oppure 338 49 68 250 Se volete inviarci brevi messaggi Brevi messaggi e chiari Con un sms oppure con whatsapp Noi ci fermiamo qui Come sempre whatsapp serve anche per le vostre segnalazioni Memorizzate questo numero di telefono Sul vostro cellulare Sotto la voce Fano TV Ci ritroveremo tra poco Subito dopo la pubblicità abbiamo uno speciale Per parlare dell'evento del 4 di marzo 3-4 minuti con l'assessore Paolini E poi di nuovo come già detto il sindaco di Fano Grazie per averci seguito A più tardi Grazie per averci seguito